c'è chiama in me su tiktok parla adesso fammi andare salendo su tiktok come faccio di tricchi troppo mi chiami di nuovo a scuola mi chiami di nuovo a scuola come ti chiami non viene troppo bisogna di ornega nella tua vita scuola ed ishion quale scuola ti è piaciuta di più quale scuola ti è piaciuta di più dov'è che ti è affezionato ai tuoi professori quale scuola andato a scuola con una scuola che era foto di uno biondo si sono io sono io ma che è bancata questa banana guarda gli occhi bucchi ma perchè ma perchè vai vai in quale scuola hai chiuso più ci buttiamo da russa non le dittarie uacino io io assieme dai 3 2 1 via sicuro assieme no 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 io attori io sto seguendo al cattivo ma che è 40 mila cristiani c'è un lama ho visto un lama qua è l'ho trovato io un mio e mio e mio mio spagano spaccare vabbè vedi tutto io non mi prendo niente ma poi ci sono solo materiali il creatore bislacchia ok se muori non è colpa nostra già sta morendo il viso è più forte devo parlare o una fama ricomma un pesce noi stiamo pescando c'è stata io ho trovato pure come nemmeno che bello nella vita reale dove un bucino lo peschi fucine anche io ho trovato anche io ce l'ho andiamo qui dove ci sono le cose mi dico un attimo e lì qua un attimo ci vogliamo trasportare anche il giocatore lo sai ci possiamo trasportare il giocatore lo sai in che senso questo giocatore che è regolata l'oretta e lo passato da portare come quando va è bellissimo puoi usare anche i miei video per fallo tipo l'audio questo è quello no era mia vabbè vabbè ti do un peschio oh thank you ho pensato male come facciamo se deve staccare stacchi ci sono cecchino ma che è e là sotto non è visto l'unica non è una cosa appuntato l'ho fondato lì è lì lì no aspetta ammazzate ammazzate ammazzare ammazzate sono in Italia lo vuoi duro? no 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 c'è un bomba invece serio con lo mio tanto vuoi trovo no 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 pendito pendito sono trovato guarda lo metto da più piano 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 c'è il volume ora l'altra non è che lei pericolò per chi da un ciclo a posizione di barra si aspetta e se c'è nel loro parte certo faccio andiamo in safe andiamo in certe parti ma perché tutti così c'è un aereo ma no che non c'è notizia se non è Gabriele perché se c'è Gianni ma c'è il cecchino qua arrivo bellissimo ci sono i botte da me invece oh non mi hanno visto la safe te l'ho fatto io il cecchino il pesciolino il pesciolino no non è gente che nuova quello è il giocatore quello lì che non lo ammazzare aspetta 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 i fucili del cecchino aspetta il materiale io non li uso sono il banco matto umano sono banco matto andiamo qua dentro vediamo cosa c'è ricarica le armi mentre che ci sei che stai non c'è niente vabbè controllo io ricarico sempre anche non andare dai botte non li ammazzano ma dove sono il portale il portale ma dove vado il portale sì ma non si può entrare non so ma si richiude quando ci vai io lo so aspetta ma non c'è non so c'è fosse qualcuno non ha visto la gravitazione ma non boh qua qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua che c'è vieni da me aia ma con la macchina sì ma è fatto è fatto è bianco è bianco ma dove i camari tu è stata cale è normale che il pesciolino porta fortuna che mi ha portato tu è bianco e così bianco e così bianco e così bianco ammazzano è bianco lo ammazzato sta curando vai vai ammazzare dietro l'albero ammazzano che madonna stava curando ok cura lavoro perché c'è nessuno dei alti quello ma era morto era morto non c'è non c'era di preoccupare l'avevo ammazzato io porto puntata ammazzano ammazzano noi di una capi di vita portate bravissimo ammazzano ammazzano capriera e la nemmare la nemmare non ce la faccio spazio ma qua 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 no no ma che cazzo siamo morti insieme lo so dai cazzo 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 è bianco ma dopo devi staccare io dopo sì dove è bello andare luce ma quante cazzo di cose mi è smaccato stavo stavo però کa mi stavo stavo da stavo 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 sai dove nemmeno il tiktok eh? nooo sicuramente quello che mi sponda io te devo prendo io l'ho già messo oh stai vedendo i miei video? nooo no dico du spaccato i comerci ma che è staccata? che ballo staccata? ma che è? 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 state guardando guarda dove andiamo? oggi piove il sole c'è si si sono sei si sono tre si è scasso ma io non sono scasso e io ce la faccio giocare qua ma gioco ma se vedi i video ho fatto anche il vittorio reale io cazzo io ho tentato il vittorio reale anche con Ludovico l'ho fatto su dai ma uno scarico ora ti faccio cascare ora ti faccio cascare bo porco ma è spuntato in faccia c'è un nemico qua mi pare se non ho un'arma bella la vita e non un'arma bella e non un'arma bella ha ammazzato l'ha ammazzato faccio un hook hook se non ho un'arma e non mi pare ma c'è tutto il mio salvando no no non voglio adesso devi salvare di salvare sono qui sono qui salvami ma che fai mamma mia aiutami scusa si chiama elefante già dove aiuta che sono qui come li potete curare c'è un nemico la sotto spartano ammazzano vado sbloccato un altro personaggio questo quello che ballo e taga da tutti i bambini tutti sticchietto che ballano l'arte di noci ok ballo e taga da tutti sticchietto che ballano ragazzi venite qua facciamoci le splash ok ballo taga da me ne mancano ludovica i personaggi raccolti me ne mancano uno 5 5 5 5 ce ne mancano ce ne mancano cinque personaggi da sbloccare lo sai a te si a me e poi ho finito tutto non è un loser poi l'ho trovato l'ho trovata qua è ma dai luci e luci no 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 guarda non guarda mi guarda no no un saluto vivo l'ha trovato lei che cazzo hai detto? protovico vieni qua da me protovico vieni qua da me spieghi vieni e ti do gli sciuddini ok ballo tutti i bambi vieni bambini bambi bambi il cattolo animato mi tagliatore abdul abdul vieni qua dove sei? abdul approva abdul viva ti aspetto che cacchio vuoi? tieni c'è il pesciotto per te l'ho pescato a posto no 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 non mi fai pensare mai no 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 maniaco no 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 sta apparendo un maniaco vero? no 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 toghi 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 va bene me ne vado mi faccio ammazzata la 6 andiamo gabi andiamo tieni il pesciotto ma io sono la cana da pesca questo qui e questo qui hai munizioni cecchino gabi? ho i materiali ti posso dare vieni vediamolo doveva il corto pesco una medusa rosa una medusa rosa ancora si trova? ah chi ti spara? no ho sparato un po' al pesce lo ucciso no dico dire che c'è ci sono ancora le meduse non c'è non pensavo ci sono oh stanno sparando no ci sono gli elicotteri ma vaffanze un'isola un'elicotteri mamma un personale scherzo luci no vedo aspetta aspetta fammelo spettare a me se vai a corso con me ci sono tanti l'amiramo ce ne sono altri due me lo dicevi prima avevo dato la spottiamo insieme la missione mi pare siamo la stessa roba ma uno è morto in volo una londocca del volo scusca non ammazza nessuno ma ci sono gli aerei c'è uno con il camion venite il camion della lindon oh un'è venga la munizione cicchino non ce l'ho io qua c'è il camion fermo quello di prima no non dice il figare andiamo con il camion matto 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 torna tra gina sto facendo a black e dead ma che fa qui stai questo questo camion ma io lo faccio cascare ci sono questo dovrebbe essere caduto rega io non ho caduto caduto perfetto l'abbiamo ragazzi io sono nel cesso ciao sono mario sì ma taglia unia safe sì ma oh io sono qua rimasto indietro col combito sono rimasto indietro col combito io c'ho le bende c'ho le bende c'ho se le volete io non ho un cazzo la vuoi? io non ho un cazzo io c'ho le bende le vuoi? no no nulla io c'ho le bende le volete? no guardi sto quasi per morire dai io c'ho le bende le posso buttare vai 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 facciamoci le bende no 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 scappiamo eh ora scappiamo dai tanto stiamo arrivati guarda assicuratemi ora mi è curata ma siamo la stessa vita guarda stiamo vedendo stessa vita sono in comune forse forse moriamo tutti quanti insieme no no io ci arrivo ah no 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 io non ci arrivo forse io ci arrivo morta io arrivo morta curami curami io sono morta no ho due di vita ho due HP no ma dove sei? qua aspetta io ho due di vita non ti posso curare mi dispiace san culo covid è bastardo covid è bastardo così a caso c'è un flop c'è un flipper un flipper un flipper oh ho sbloccato il corso di neve zainetto di neve guarda guarda c'è lo zainetto di neve ho scioppato oh sì ho scioppato io ce l'ho zainetto di neve ho sbloccato guarda mi sto girando mi fa vedere guarda si vuole bellissimo g e buon divertimento anche che urla te l'è blanda